22 maggio 2017, ore 19 e 10. Queste sono quelle che chiamano nuvole, condensa, condensa gli aerei, da una merda ci scaricano un testo dalla mattina alla sera, come se la Eco X gli hanno dato fuoco per far sparire i rifiuti tossici, l'intossicato sparsa diossina su tutto il territorio, dell'agropontino da mezza latina, si preoccupa della diossina, della Eco X, poi abbiamo gli aerei e grazie americani, massoneria israeliana, mondiale, tutti i pezzi del merda ci scaricano addosso, monnessa, materiale chimico 24 ore su 24. Questo è il cielo di Lavinio ai 19 e 10, guardate la monnessa, la sorzeria del Cessà, questa sarebbero condensa, aerei che per cazzo si sono incrociati qui tutti insieme, guarda la tabella X, guarda che carina, X del merda, X del cazzo, X della massoneria, guarda qua, guarda che c'è sta qua, c'è stata due riprende, è una merda, la monnessa che c'è sta qua, ora sono, ho puntato verso degli etri, direzione degli etri, direzione degli etri, e il metri, così direzione Montegau, Castelli Romani, X X, guarda, non c'è si può credi, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.